ok ragazzi ho questi tre dischi da decilespugliatore queste due ruote da rc completamente rotte volevo attaccare questi dischi due di questi su queste due ruote e poi collegarli alla mia rc e fare un test così c'è una macchina killer super rc procediamo perché ragazzi ho preso il trapano con la punta cono delle viti adesso faccio dei fori su questi dischi li faccio passare attraverso questi spazi con questi viti e qualche rondella blocchiamo e procediamo alla modifica di queste ruote per le ruote da auto killer ok raga i fori sono stati fatti due di qua due di là adesso non mi resta che assemblare le ruote ok ragazzi la prima ruota è pronta guardate che figata è venuta benissimo la cosa pazzesca mi piace vero figata paura terrorizzante che ragazzi ho completato le due ruote non mi resta che montarle e fare un test bene 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 ha montato le ruote posteriori eccole la quando sono carine adesso ci montiamo queste due cose assurde ok ragazzi questo brobbio è pronto facciamo un piccolo test anche se rimane proprio terrore questa macchinina ok ragazzi per fortuna ho finito il test sono sopravvissuto non mi sono fatto male è Davvero è velocissima Impressionante Vi è piaciuto questo progetto? Avete altre idee? Ditelo, scrivetelo nei commenti Ciao ragazzi, alla prossima Se sopravvivo ai miei progetti Ci vediamo alla prossima Ragazzi, non fatelo a casa vostra